dell'avversario a cui va a confrontarsi, contro quale va a confrontarsi. Detto questo l'Atalanta, l'abbiamo visto anche contro il Napoli, una squadra che quando si copre, si copre bene, insomma sono ben organizzati in campo, sanno ripartire veloci, non solamente il Papu, lì avanti, oppure Petagna, ma anche Cristante, che diciamolo è anche delle rivelazioni più importanti di questo gruppo di Gasperini. Detto questo, insomma, io non do proprio per scontata la vittoria della Juventus, io do un bel pareggino proprio fatto bene. Ma c'è il vittorio. C'è il ritorno, però in questa partita io do il pareggio, perché vincere a Bergamo non è facile, ricordiamo. Marica, un attimo solo, io tornerò da Giordano per leggerla insieme a voi l'undici titolare e poi voglio interpellare più. Grazie Marica. Con queste due bombe stasera il titolare. Ci dobbiamo aspettare, ci doveva dirlo. Allora ragazzi, ma noi siamo qua in attesa di Atalanta-Juventus, che sarà sicuramente una partita. Abbiamo detto gol no gol, ma come ci saranno sicuramente, lo vogliamo dire o no? È ovvio. Over, over in tutti i sensi. Queste bombe devono servire per il Napoli, non per le altre squadre. Fatemi sentire, Gianluca, voglio sentire sul discorso del momento magari non brillantissimo della Juve. Cioè, io penso che ci sia un motivo, la Juve ha calibrato, come dicevamo, anche nel... Però devo dire, l'Inter si deve dare un po' una svegliata in quasi tutti i reparti. Non è il problema, arriva pastore e risolve i problemi dell'Inter. L'Inter ha problemi sulle facce, a centrocampo, ha problemi di lentezza anche nella manovra. Abbiamo visto come il gioco è prevedibile, come comunque anche squadre mediocre riescono a mettere in difficoltà questa squadra. Per cui, voglio dire, non è un Inter brillante. Cioè, non pensiamo che arriva pastore e risolve i problemi dell'Inter. Marika, devo soppare perché il Napoli... Ha ragione, ha ragione Mario. Il giocatore, se è un vero fuoriclasse, gioca, che sia al Celtic, che sia alla Roma. Ho capito, perché magari probabilmente giocare in una squadra come il Celtic, comunque molto blasonata, comunque già in un certo circuito, poteva essere qualcosa che stimolava di più il giocatore. Però, un giocatore, quando è un fuoriclasse, quando è un campione, pure se gioca in squadre magari un po' meno blasonate, però cerca sempre di dare un buon apporto, cerca sempre di mettersi in mostra. Anche perché, se non è quest'anno, magari può essere anche l'anno prossimo, che il suo valore addirittura potrebbe anche crescere, se fa un certo tipo di stagione in un determinato club. Quindi, devo dire che, secondo me, se è veramente un giocatore valido, cerca di dare, veramente, non una mano, ma due mani a questa Roma per poter, appunto, fare un cammino più che è sufficiente. Anche perché, ripeto, se quest'anno è andata così, l'anno prossimo potrebbe valere molto di più il giocatore, se rende di più in un club. La Lazio ha preso un'altra marcia rispetto al primo tempo. Quindi, un attacco formato da Felipe Anderson, che ricordiamo che è anche uno dei migliori assist men del campionato, più il contributo di Immobile lì davanti, secondo me, è un'altra Lazio. Devo dire che il Milan mi ha dato tanta fiducia, perché abbiamo visto un altro Milan in campionato, però può andare bene una volta. La Lazio è una squadra che sta brillando. Per cui su tutti i punti? Io sulla Lazio, vince la Lazio. Vince la Lazio, siamo a due. Fulvio, prima. Fulvio, stasera ce l'ha tu con il mio abito. È un over, ma sono un entusiasta, tu che dici uno. Ma è giusto che sia così. Secondo Marica, lo capite, è un over anche Mila-Lazio. È tutto over per Marica, l'avete capito? Esattamente ce ne sono altre più forti, però voglio dire, con fronte al Tottenham, io do per vincente lo United. Lo United che cercherà sicuramente di imporsi in attacco, anche perché certe partite non sono state pienamente sufficienti come rendimento. Quindi io penso che vincerà lo United non di tanto, io penso un 1-0, un 2-1, non di più. Comunque se la giocherà fino alla fine. Tottenham non mi convince più di tanto. Tottenham che non... Dei progetti che tu vai a tagliare nel momento in cui nascono. Cioè, adesso ha preso un po' confidenza Gattuso con la squadra, adesso sta avendo qualche risultato positivo. Quindi non vedo perché tu a un certo momento vuoi togliere questo progetto Gattuso, prendere Conte, adesso poi bisogna ricominciare da capo, tutto quanto. Insomma, questa squadra è in balia però degli allenatori, degli schemi. Ci vuole il doppio del tempo per unificare il gruppo. Quando invece abbiamo visto che con Gattuso qualcosina, non tanto, perché non sta facendo mirabile...